L'iter dell'autonomia differenziata proseguirà le dimissioni di quattro dei componenti del Comitato per l'individuazione dei LEPI, livelli essenziali di prestazione, non inficcerà un percorso ormai avviato. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, si dice stupito, sorpreso e rammaricato per la decisione di Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Paino, ma fa notare come di membri del Comitato ne rimangano comunque 58, ancora più motivati, dice, nel raggiungimento dell'obiettivo e rincara il governo va avanti, ce ne faremo una ragione delle loro dimissioni e porteremo a casa questo risultato di civiltà. Intervenuto in diretta a Focus, il presidente del Veneto Luca Zaia ha dato una connotazione politica alla scelta dei dimissionari. Penso che chi si è dimesso comunque fa parte di una parte politica che non condivide l'autonomia, perché questo ormai è chiaro, la sinistra non la condivide. Io sinceramente non faccio tante tragedie, ognuno è libero di fare quello che vuole, se questi esponenti hanno deciso di dimettersi ne prendo atto. Perché sono così terrorizzati dall'autonomia? Probabilmente perché temono che attraverso i LEP si scoprano degli altarini e degli scheletri negli armadi, è così? Assolutamente ha ragione, guardi, le rispondo con le parole di un uomo di sinistra, un grande uomo di sinistra, Giorgio Napolitano. Quando gli chiesero che cos'è l'autonomia, lui disse che è una vera assunzione di responsabilità. Allora, se tu spendi e spandi, a un certo punto arriva qualcuno che ti dice, vabbè adesso iniziamo a fare i conti, cioè tu ti chiudi in casa e lo chiudi fuori casa. Ecco, questi in generale che sono contro l'autonomia non vogliono aprire la porta. Il che non vuol dire che bisogna spaccare il paese, che bisogna mettere a pane d'acqua qualcuno, ma bisogna guardare i conti. Opposta la prospettiva del senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, secondo cui dopo le dimissioni dei quattro autorevoli componenti del comitato, il buonsenso imporrebbe a governo e maggioranza di fermarsi e approfondire. Per Martella il vero nodo è l'assoluta indeterminatezza delle risorse finanziarie, che dovrebbero definire quali livelli essenziali effettivamente sono assicurabili a tutti, senza discriminare nessuno o creare oneri non sostenibili per la finanza pubblica, e conclude continuare ad accanirsi su un disegno di legge che così appare senza prospettive non è dignitoso per il governo.